Ciao a tutti e bentornati sul canale del vostro amichevole chimico di quartiere. Oggi siamo all'aperto perché voglio farvi vedere un esperimento che è diciamo piuttosto pericoloso da fare al chiuso, si possono sviluppare dei gas tossici, si utilizzano sostanze chimiche potenzialmente pericolose, per cui lo faccio all'esterno, sono qui di fianco a un lavandino da giardino, avrò i guanti e mi raccomando voi non fatelo perché è un qualche cosa che si deve fare solamente se si sa esattamente che cosa si sta facendo, che cosa si sta manipolando. Quello che vogliamo andare a fare è dissolvere la parte esterna di una normale lattina di alluminio di una bevanda, qui ho preso una coca cola piccolina ma va bene prendere anche altre bevande. Voi sapete che le lattine sono fatte da alluminio, tuttavia sono ricoperte di una vernice, di una resina che protegge l'alluminio, ecco. Quindi per andare a fare il nostro esperimento dobbiamo eliminare con un po' di carta vetrata tutta la vernice esterna, vedete, lasciando la parte sotto intatta e la parte sopra intatta. Quello che andiamo a fare adesso è immergere questa lattina ancora chiusa, adesso la apro, in una soluzione di soda caustica, cioè di idrossido di sodio. Si può prendere per esempio alcune confezioni del liquido per sgorgare i lavandini. Attenzione però che molte di queste contengono anche ipoclorito di sodio o candeggina. La miscela delle due è meglio non utilizzarla per questo esperimento, perché le bevande gassate che ci sono dentro sono di solito acide e se per caso qualcosa va storto, se si rompe, se c'è un travaso di acidi contenuti nella lattina nell'ipoclorito di sodio, beh si sviluppa il gas cloro che è un gas tossico. Quindi detto questo, e questo è uno dei motivi per cui non dovete fare questo esperimento voi, vi limitate a guardare quello che faccio io, ecco, andiamo a fare l'esperimento. Ed eccomi qui con i guanti e gli occhiali di protezione, importantissimi quando si fa qualsiasi tipo di esperimento chimico. Ora andremo a versare una soluzione di soda caustica di idrossido di sodio nel bicchiere, e poi ci caleremo la lattina. Ho preferito prepararla io, una soluzione al 10%, a partire dalla soda caustica granulare che ho comperato, perché al supermercato ho trovato solamente quelle in gel, e quelle in gel per fare questo esperimento non vanno bene, perché poi creano un sacco di schiuma che deborda dal bicchiere e fa un sacco di disastri. Quindi ho preparato io una soluzione al 10%. Ora andiamo a versarla. Apro la lattina. Altrimenti rischia di esplodere durante l'esperimento. E adesso la lasciamo qui per un po' di ore e vedremo cosa succede alla fine. Vedete che l'idrossido di sodio sta iniziando a consumare l'alluminio della lattina. Lo stecchetto di legno rubato a un ristorante cinese l'ho messo nel caso la lattina vada a fondo, quindi è una precauzione. Guardate adesso com'è vigoroso l'effetto dell'idrossido di sodio sull'alluminio. Ecco perché vi ho detto che assolutamente non dovete farlo in casa e assolutamente non dovete proprio farlo. Guardate l'esperimento che faccio io. Ecco la reazione è finita, ora solleviamo lentamente la lattina. Uh, guardate, guardate. Vedete c'è una sottile membrana di plastica, di una resina, che separa la coca cola dall'alluminio. E questo perché l'alluminio reagisce sia con le basi, come l'idrossido di sodio, ma anche con gli acidi. E siccome la maggior parte delle bevande gassate contiene degli acidi, l'acido ortofosforico per esempio nella coca cola e in bevande simili, beh queste corroderebbero l'alluminio e quindi a protezione di noi consumatori, che non dovremmo berci dell'alluminio disciolto, si mette questa sottile pellicola. Ora vado a depositarla in un bicchiere di acqua in modo tale che possiate vederla meglio. Vedete, attenzione che è molto delicata, rischiamo di romperla, vedete, è proprio una sottilissima membrana di plastica. Adesso ripeto l'esperimento con una lattina di aranciata, così potete vedere che non è solo la coca cola che ha questo rivestimento interno. L'aranciata invece dell'acido ortofosforico ha l'acido citrico, ma che comunque corroderebbe l'alluminio. Ecco la lattina di aranciata immersa nella soluzione di soda caustica. Come vedete la soda ha dissolto tutto l'alluminio superficiale, vedete, e ha lasciato la pellicola, esattamente come prima, che contiene e trattiene il liquido giallo e lo separa dall'alluminio, vedete, molto molto delicato. Vi potreste chiedere come mai sotto non si è corroso? Beh, perché l'ho grattata e ho tirato via la vernice protettiva solamente nella parte laterale, mentre sotto l'ho lasciata così come sopra. Qui potete vedere le due lattine, quella di coca cola ne contiene meno perché durante la reazione si è sviluppato talmente tanto calore che ha fatto fuoriuscire una parte del liquido interno. Qui ho svuotato la lattina per farvi vedere com'è sottile e dedicata la plastica interna. Questo tipo di pellicola è presente anche nelle lattine più grandi, sia quelle molto alte, sia quelle normali, da 330 millilitri, e serve appunto per separare il liquido interno dall'alluminio. Notate che io non ho grattato fino in fondo al cilindro, ho lasciato un pochettino, e questo perché altrimenti mi sarebbe staccato al fondo, cosa che in realtà è successa nei primi due esperimenti che ho fatto. Spero che l'esperimento vi sia piaciuto. Prima di lasciarvi volevo ringraziare l'artista Sciarco che mi ha rifatto tutta la grafica del canale, quindi grazie Sciarco e arrivederci sul canale del vostro amichevole chimico di quartiere. Ciao!